Il fenomeno mafioso è unico e unitario e solo in una visione complessiva, globale, unitaria, si possono poi studiare e approfondire adeguatamente le singole strategie per le varie sfaccettature del fenomeno mafioso stesso. Le piste bancarie cominciarono ad essere eseguite da Giovanni Falcone in un processo che precede quello che prese poi il nome di Maxi Processo e precisamente il processo Spatola. In un secondo tempo fu possibile la creazione di una squadra di finanzieri che lavorò presso di noi nella successiva epoca del pool antimafia. Io e il maresciallo Scimemi siamo stati i primi finanzieri a essere assegnati a questo gruppo di lavoro del pool antimafia dell'ufficio istituzionale di Palermo. Questa era la nostra stanza dove per anni siamo stati qua a svolgere il nostro lavoro. Nel corridoio c'erano le stanze degli altri magistrati del pool antimafia. Alla nostra destra c'era questa specie di bunker, c'era il dottor Falcone e il dottor Borsellino. Mentre sviluppavamo le indagini sul clan di Corso dei Mille di Filippo Marchese trovammo una serie di coincidenze investigative che andammo ad approfondire. Andammo così a trovare tre flussi di canalizzazione del denaro. Uno che veniva orientato verso altri appartenti alle cosche del palermitano. Un altro flusso era diretto nel napoletano, esporenti i contrabbandieri. Ed un terzo invece finiva nel varesino e terminava sui conti di compensazioni all'estero. Dopo tanti anni le autorità svizzere stavano cedendo, sembravano essere finalmente disposte a consegnare al giudice Falcone o a un suo fiduciario la documentazione bancaria inerente ai conti bancari in Svizzera di Vito Ciancimino. Mi ricordo che quando misi sulla scrivania del dottor Falcone il plico glielo misi quasi come gli stessi consegnando un preziosissimo e prestigioso trofeo. Quelle prime indagini chiamate finanziarie hanno rappresentato nella nostra storia giudiziaria l'inizio di una storia di lotta alla mafia che porterà poi al maxim processo, alla storia di una lotta alla mafia che è diventata negli anni, anche dopo la morte di Giovanni, una lotta fondamentale nel nostro paese.